Qual è il significato del finale di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese? Cercheremo di capirlo insieme, visto il grande impatto che ha avuto sul grande pubblico e la peculiarità che Martin Scorsese ha deciso di mettere in scena. Ovviamente se non avete ancora visto il film andate di corsa e ritagliatevi queste tre ore e mezza per recuperarlo perché è semplicemente grandioso. Killers of the Flower Moon è probabilmente uno dei migliori film di Martin Scorsese e una delle migliori interpretazioni di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Ma andiamo direttamente al finale della pericola perché, a differenza di molti altri biopic, ha una peculiarità che solo Martin Scorsese poteva pensare di mettere in scena. Come abbiamo visto in Killers of the Flower Moon, il finale ci consegna i colpevoli degli omicidi, degli Osage e il loro mandante, ci spiega quindi il perché e il per come sono avvenuti questi omicidi. Non appieno i colpevoli si sono poi presi nella storia vera, tutte le responsabilità del caso e dal momento in cui il personaggio di DiCaprio, Ernest Burkhardt, viene messo in faccia alla realtà dalla moglie, lui comunque rifiuta di confessare che ha tentato di avvelenarla lentamente durante gli anni in cui erano insieme per prendere in possesso dei terreni col petrolio. Dunque, il finale che Martin Scorsese decide di mettere in scena non è il solito finale all'americana quando si tratta di biopic presi da storie vere, infatti non c'è il solito schermo nero con Didascalie che raccontano il finale della storia. Anzi, il regista decide di metterci la faccia e raccontare lui stesso cosa accade ai personaggi principali che abbiamo conosciuto durante il film. Quello che vediamo ad un tratto è degli uomini sul palco con dei copioni che raccontano la storia, messa in scena come uno show radiofonico tipico degli anni 50, nel quale, appunto, uomini bianchi raccontano la storia in determinati modi. Qui vediamo Scorsese vuole sottolineare come la storia la raccontano i vincitori, quindi quegli uomini bianchi che, nonostante tutto, sono riusciti a conquistare il territorio degli Osage e, lo sappiamo, gli indigeni d'America non sono spesso ben visti dagli occidentali, nonostante avessero proprio gli occidentali conquistato il territorio indigeno degli Osage. Durante questo show vediamo un pubblico di persone bianche che applaude presentatori soltanto bianchi, nonostante la storia racconti principalmente il massacro degli indigeni Osage, quindi a sottolineare come negli anni 50 chi vincerà, narra la storia, quindi la razza bianca, gli americani in quel momento sono la parte vincitore che narra quella storia, raccontata con grasse risate, un po' a prendere in giro questa storia, alla quale non viene dato il giusto peso. Infatti, mentre i vari narratori si alternano sul parco, raccontando le vicende che poi si susseguono dei protagonisti, vengono accompagnati da risate e da applausi come a schernire quello che accade ed è accaduto agli indiani Osage. Un Martin Scorsese che ha voluto lanciare un messaggio con questo finale in modo da valorizzare questa storia, cercare di renderla reale e non un racconto divertente ed esilarante, come viene fatto passare in questa parte, in questa messa in scena di questo finale. Perché Killers of the Flower Moon è una parte buia della storia americana e quando tocca Scorsese, sì perché c'è un cameo del regista italo-americano, sul palco a raccontare la parte finale dei protagonisti della storia, c'è un silenzio tombale, accompagnato da nessuna musica, un silenzio che è tutto un programma. Martin Scorsese col suo intervento sul palco accompagnato soltanto da un silenzio tombale ha voluto sottolineare il suo messaggio a favore della popolazione indigena Osage, sempre maltrattata e mal vista dagli americani che hanno solo sfruttato e fatto ciò che volevano con la terra e col territorio appartenuto inizialmente agli Osage. Dopo questo piccolo show che ci ha voluto ricordare come era la televisione e l'intrattenimento tutto occidentale negli anni 50 negli Stati Uniti, Martin Scorsese però chiude Killers of the Flower Moon con una sequenza da brivido per ricordare come la storia non va dimenticata, quindi accompagna la chiusura del suo film con un tamburo a dimostrare di voler ricordare gli Osage, di voler ricordare la storia che è accaduta a questa popolazione soltanto a causa di denaro e ricchezza. Quindi un Martin Scorsese che si è messo in prima fila per dedicarsi a questa causa, Martin Scorsese che si è messo in prima linea per far ricordare è che nella storia degli Stati Uniti ci sono anche queste storie, queste ombre che non tutti conoscono e che non vogliono ricordare perché sono piene di mani sporche di sangue. Grazie a tutti ragazzi per avermi seguito fin qui, io so che è difficile perché è un film particolare, ma Martin Scorsese con questo Killers of the Flower Moon ci ha regalato veramente un grande capolavoro, tre ore e mezza che sono volate e che ho amato. Non ho fatto la recensione perché sarebbe impossibile racchiudere un film del genere in poco più di dieci minuti, ce ne vorrebbero venti se non un'ora di video, quindi vi rimando alle nostre live, i video sul nostro canale e iscrivetevi sui nostri canali social che trovate in descrizione qui sotto, non dimenticate quindi di seguirci su Ciacchiazioni. Ciao a tutti da Valerio Perrone, buona giornata.